Ciao a tutti, sono Ivan De Angelis, un atleta professionista delle fiamme gialle, in particolare dell'atletica leggera e svolgo il salto con l'asta. Ho iniziato sport sin da quando ero piccolo, ho cominciato facendo nuoto, poi sono passato al calcio e l'ho provato un po' di tutti, per poi passare gli ultimi anni alla ginnastica artistica e poi specializzarmi sull'atletica e dopo qualche anno di atletica in generale mi sono specializzato nel salto con l'asta. Di certo le esperienze che ho fatto mi hanno aiutato molto a crescere a livello culturale anche perché visitando molte città, molti paesi europei, comunque anche al di fuori dell'Europa mi hanno aiutato a conoscere nuove persone, nuovi stili di vita, culture eccetera. I miei successi più importanti sono quelli che raggiungo in gara, quando salgo sul gradino più alto del podio, prendo una medaglia e ovviamente quello lì è un'emozione tale che mi rende veramente soddisfatto di quello che pratico ogni giorno e mi sprona sempre di più ad andare avanti e a continuare questo sport. Nel 2017 ho conquistato una medaglia di bronzo alle EIOF a Ghior, poi sono arrivato al sesto campionato europeo l'anno scorso, sempre a Ghior e successivamente quest'anno ho partecipato ai giochi olimpici giovanili a Buenos Aires e anche agli europei a Boros. Con lo studio adesso ho appena finito il quinto anno di liceo, inizierò l'università breve. In questi anni sono stato aiutato molto dai professori per quanto riguarda le assenze, per quanto riguarda la conciliazione studio e sport e questa cosa mi ha aiutato molto anche grazie al progetto Studente Atleta che è un gran progetto e spero vada avanti per il meglio.